Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, questa è la puntata del martedì, rimandiamo a domani la piccola nota di Bonton e di Savoir Faire, nella seconda parte parleremo di un convegno di psichiatria che si terrà venerdì a Trieste, nella prima parte siamo in compagnia di Don Lorenzo Magarelli, referente del Polo Triestino dell'Istituto Superiore Scienze Religiose, grazie per essere tornato nei nostri studi, prima di incominciare a parlare dell'attività dell'Istituto e anche di un'altra iniziativa, reinquadriamolo un attimo all'interno poi dell'attività che in qualche modo afferiscono anche alla diocesi o comunque di un'attività più ampia, perché se non mi sbaglio il Polo copre il Triveneto? copre tre diocesi del Friuli Venezia Giulia, in realtà però fa riferimento alla facoltà teologica del Triveneto. Ah ok, quindi non ricordavo malissimo. No, esatto. Ed è nato, è sorto quanto tempo fa? Allora l'Istituto Superiore di Scienze Religiose o gli istituti nascono già parecchi anni fa, siamo credo già negli anni 90, quando diciamo sulla spinta del concilio, parecchi anni dopo il concilio, in realtà si è data la possibilità anche ai laici, quindi ai non sacerdoti e quelli che non si preparavano a diventare preti, la possibilità di approfondire dal punto di vista accademico, universitario, la teologia, ricordiamo che la teologia, forse oggi ci sembra un po' strano che sia una disciplina accademica, in realtà ricordiamo che le medievole università, ma pensiamo alle grandi università da Oxford, Padova, Bologna, tutte le prime grandi università nascono con, diciamo così, la prima facoltà appunto quella di teologia. Ma non c'è una facoltà, non c'è l'insegnamento della teologia all'interno dell'università? Nell'università statale italiana non c'è, dal 1873 per motivi storici legati alla nascita, diciamo così, dello Stato, o dell'Unità d'Italia, insomma dello Stato italiano, per cui per questo motivo non c'è, in tutti gli altri paesi c'è, come è ovvio che sia, insomma. Vabbè, io più faccio questo mestiere, lo faccio da parecchio tempo, scopro delle cose che secondo me non stanno, se posso dirlo, né in cielo né in terra, ma questo è un altro discorso. Allora, l'Istituto Superiore, dunque, che cosa forma? Allora, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose e la Facoltà Teologica sono due itinerari formativi accademici, direi quasi paralleli. Quasi paralleli perché nelle sedi periferiche, come ad esempio Trieste, Udine, Gorizia per fare un esempio, la Facoltà di Teologia fino all'altro anno formava soltanto i sacerdoti, mentre dall'anno scorso la Santa Sede ha ritenuto anche giusto, anche correttamente, che alla disciplina teologica, nelle sedi periferiche, possano iscriversi tutti. Per farla breve, praticamente, per essere sintetico, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose forma, prima di tutto, i futuri insegnanti di religione, poi dà la possibilità a qualsiasi laico cristiano di approfondire il tema della propria fede dal punto di vista razionale, mi verrebbe da dire accademico, attraverso il metodo della teologia, ma anche quanti vogliono approfondire questo aspetto, anche seguendo ad esempio alcuni corsi come uditore, sono aperti un po' a tutti. C'è interesse, no? Diciamo anche dal mondo laico, anche se il termine… C'è sicuramente molto interesse perché, dopo l'ubriacatura, direi dall'Ottocento in poi, l'ubriacatura che portava a dire no, la fede irrazionale, fede e ragione sono distinte, non possono andare insieme, finalmente anche un po' alla massa, alla grande maggioranza del pubblico è chiaro che la fede non è irrazionale e quindi ci si può approcciare a questo tema ovviamente con anche percorsi diversi che possono essere storico, sociologico, psicologico, ma anche teologico, quindi c'è molto interesse. Abbiamo visto anche rispetto alla scorsa trasmissione, anzi ringraziamo Telequattro per averci dato ancora una volta questa possibilità, insomma ci sono state tantissime persone che sono venute a informarsi. Tra l'altro, ma questo magari è un discorso che riguarda… ma io la domanda la faccio ugualmente, insomma perché poi questa trasmissione è anche bella impostarla a seconda poi anche delle eventuali curiosità di chi conduce, sollecitate anche dalle risposte. I seminari esistono ancora? Certamente. E come si… so che è stupida come domanda… come si insegna a diventare sacerdote? Allora, questa è una bellissima domanda e non è facilissimo rispondere, nel senso che la formazione dei futuri preti si basa su quattro, diciamo così, assi portanti. La prima è quella che poi porta via più tempo e la formazione teologica, un po' come la formazione di un medico. Prima di tutto devi fare una formazione di tipo contenutistico, devi sapere le cose. Poi devi saper fare, ovviamente, quindi c'è anche nei seminari la formazione, pensiamo al tirocinio ad esempio, che i seminaristi fanno al fine settimana tornando nelle loro parrocchie, così come qualsiasi studente di medicina va a fare il tirocinio nei vari reparti, nella corsia. Poi c'è una parte, diciamo, più di formazione spirituale, quindi una formazione di tipo così intimo, personale, anche perché la scelta della vita sacerdotale non è tanto un lavoro quanto un ideale di vita, appunto. Quindi queste sono un po' le basi della formazione e quindi la maggior parte del tempo è dedicato allo studio, poi la vita della comunità, l'inserimento all'interno della chiesa e tutto questo dura sette anni. Prima era sei, fino a qualche anno fa, adesso sette, qualche dio ci si fa addirittura otto, ma va bene. Tutto questo ovviamente poi passa attraverso il vaglio di quelli che sono i superiori del seminario e in ultima battuta il vescovo che poi vedono, valutano se il candidato che entra in seminario, insomma, ha, diciamo così, noi diciamo ha la vocazione dal punto di vista spirituale evidentemente, ma anche se ha il taglio, diciamo così, psicologico e anche per vivere, insomma, questa... Ultima domanda che è un po' un mio pallino, poi parliamo... Si insegna anche a gestire, mettiamola così, il momento della messa. Io sono affascinato dal fatto che magari sono differenze logicamente minime, però ci sono. Se uno va a messa da una parte, la settimana dopo se va da un'altra parte trova una celebrazione giustamente differente, perché deve tener conto anche della, come dire, della congregazione, quindi dei fedeli, eccetera. Io sono... Questo tipo di cose mi, devo dire, in realtà io cambio quasi ogni settimana perché mi sono affascinato dai cambiamenti. Ma allora, dal punto di vista teorico sì, c'è un corso proprio che è quello di liturgia in cui si insegna la storia della liturgia, i contenuti e anche quella che si chiama l'Ars celebranti, l'arte di celebrare. Cellebrandi, l'arte di celebrare. Poi concretamente questo è un tema molto, molto, come dire, in realtà di non facile comprensione anche all'interno dei seminari, perché questo è un limite, a mio parere, oggi. Questa enorme eterogeneità tra le parrocchie e gli stili diversi spesso non rende ragione di ciò che celebriamo. Faccio un esempio. Si parla... Allora, il prete si veste... Noi non andiamo a dir messa così, ad esempio, in abiti borghesi, ma ci vestiamo. Si chiama il mascheramento liturgico, cioè liturgicamente il prete non è più il prete, Don Lorenzo più, ad esempio, un altro. Ma il mascheramento vuol dire che in quel momento tu rappresenti Cristo. Allora, è un equilibrio delicato che non sempre riusciamo a, come dire, a mantenere in maniera equilibrata, delicato l'equilibrio tra me, con la mia vita, il mio vissuto, la mia sensibilità che celebro, e il fatto che non celebro me stesso. Non è che devo inventare delle cose durante la messa, se no metto al centro me stesso. Devo mettere al centro il mistero celebrato. Diciamo che questa è un'arte molto delicata e, ahimè, oggi devo dire la verità che purtroppo su questo si pecca molto. Faccio un esempio. Quando ero io in seminario, ormai lo scorso millennio, trent'anni fa, noi avevamo, mi pare, quattro o cinque corsi di liturgia. Oggi, paradossalmente, ce ne sono molti di meno. Per quella che, invece, è una delle attività che il sacerdote fa in maniera quotidiana ed è una delle cose più importanti. Quindi, paradossalmente, ecco, c'è un po' un limite nella formazione. Questo, purtroppo, bisogna anche dirlo. Però, insomma, si fa. Allora, parliamo adesso, torniamo a parlare dell'istituto. Come funziona? Parliamo proprio a livello triestino a questo senso. Allora, a livello triestino molto base. Allora, noi siamo una sede distaccata dell'istituto di Udine, la sede a Udine. Le lezioni si tengono dal lunedì al giovedì, dalle 16.45 alle 20, così in linea generale, poi qualche giorno magari c'è qualche piccola differenza. Si tengono le lezioni presso il seminario, la sede dell'istituto, che è il seminario Vescovile di Via Besenghi 16. C'è una segreteria che in questi giorni è anche aperta, sempre dal lunedì al giovedì, dalle 17 alle 19 circa. Si partecipa, alcune lezioni sono tenute in presenza e trasmesse a Udine, altre da Udine vengono trasmesse a Trieste. Questo itinerario è un itinerario accademico di 3 più 2, come si usa dire, quindi è una laurea triennale più la laurea specialistica, dove la laurea specialistica è più dedicata all'aspetto dell'insegnamento della religione e quindi più professionalizzante per i docenti. Questo in supersintesi. Il percorso viene equiparato a quello universitario nazionale? Il percorso è ovviamente equiparato, per le ragioni dette prima, la nostra è una facoltà privata, non statale. Però con il processo di Bologna, questa revisione europea degli studi accademici, praticamente viene riconosciuta come una laurea 3 più 2. Si può assistere alle lezioni anche da esterni? Bisogna iscriversi? Si può partecipare anche da esterni, c'è la possibilità dell'uditore su alcuni corsi, a seconda un po' dell'interesse personale, lo si può fare assolutamente previa iscrizione, perché questo ci serve anche logisticamente per la gestione pratica. Per capirsi com'è, com'è. Esatto. Allora, e poi ci sono esami? Ci sono gli esami, io consiglio sempre anche agli uditori di fare gli esami, di sostenere gli esami. Già, sì, non è. Perché, per tutta una serie di motivi, un po' perché dopo magari uno da uditore decide di, dopo 8 anni, magari di conseguire il titolo, ma anche perché l'esame, quella cosa tremenda sia per lo studente che per il docente, in realtà serve dal punto di vista didattico, mi verrebbe da dire, al di là di sapere se le competenze sono state raggiunte al minimo, ma serve anche per far sintesi, quindi io consiglio sempre. Allora, poi daremo nuovamente, come diceva Mike, buongiorno, i raguagli eventualmente se qualcuno fosse interessato, eccetera. Parliamo invece di quest'altra iniziativa, che è un'iniziativa della Diocesi, che ha un bel titolo anche per dire la verità, l'avventura della fede. Allora, abbiamo pensato di offrire un po' ad un pubblico vasto, principalmente ai cristiani della domenica, possiamo dire così, agli operatori pastorali, catechisti, operatori della liturgia, insomma, ma anche a chi desiderasse venire, al di là della frequenza domenicale, il Vescovo in primis ha pensato, poi ha incaricato me e Don Sergio Frausin di pensare a questo itinerario triennale, intitolato appunto l'avventura della fede, perché la fede ha davvero come la vita anche di avventuroso, da tanti punti di vista, di fare questo itinerario, che sarà un itinerario annuale. Quest'anno lavoreremo sulla figura, allora partiamo dal credo, il credo della domenica, che come sappiamo è diviso in tre parti, la figura di Dio padre, di Dio figlio e di Dio spirito santo, quindi il primo tema di quest'anno sarà appunto la figura di Dio padre e tutto ciò che è un po' legato a questo. Penso al tema della creazione, Dio creatore, prima di tutto, quindi ci sarà anche un approfondimento su uno dei temi così ancora molto interessante, per cui le persone sono molto interessate, creazione o evoluzione? C'è una frattura o no tra vedere la creazione e la natura dal punto di vista della fede o della scienza? Ma poi appunto ovviamente tutti i temi teologici e con qualche piccola incursione anche un po' più curiosa, io farò un incontro che ha come titolo Gli animali si salvano, quindi il versante insomma anche un po' così della visione del creato, ma anche della cura del creato, gli ultimi tre incontri saranno tenuti dal Vescovo che è un teologo morale, tra l'altro ha lavorato anche un po' su questi argomenti, a parte il tema dell'uomo, della dignità dell'uomo anche della creazione, insomma questo percorso, questo itinerario si può trovare la brochure sul sito della Diocesi, quindi insomma adesso stanno un po' uscendo le varie pubblicità. E tra l'altro è un itinerario che prosegue, diciamo, adesso non so se si può parlare di anno accademico eccetera, però insomma comunque è ottobre-maggio. Sì, abbiamo pensato di fare un itinerario abbastanza impegnativo forse dal punto di vista così di numero di incontri, sarà il venerdì dalle 18 alle 20, appunto da ottobre a maggio, però ci sono per fortuna anche belle pause tra ponti, Pasqua, Natale eccetera, quindi c'è un po' di respiro. Pasqua alta, no? Il prossimo anno è palantissima, credo. Sì, sì, infatti ma con ponti di maggio, 25 aprile, non sarà male, sì, sì, infatti sembra tanto ma insomma non è. Faremo questi appuntamenti anche qui nel seminario di Via Besenghi, chi vuole? Vedo tra l'altro che ci sono anche parecchie, insomma c'è anche il professor Longo e anche la professoressa, ma io non mi ricordo se è Rondini o Rondini. Rondini, ecco, no ma faccio in realtà, la mia confusione dipende anche dal fatto che la, se non mi sbaglio, una delle classi dove insegna si chiamano Rondini, ecco allora faccio una confusione. Poi c'è una, dato che la teologia non è più solo appaltata ai preti e neanche più solo ai maschi, ma anche alle donne. Ah, c'è anche una religiosa. C'è anche una sua Rosangela, la manna, che è una biblista, una teologa biblista e lei ci introdurrà sul Pentateuco, pensa ma sarà interessante. No, poi effettivamente gli argomenti sono abbastanza, molto vari, abbastanza curiosi anche per esempio, è anche curiosa la preghiera del credo, che io non so perché è la sua memoria, nel senso che ho molte più difficoltà ad imparare gloria, che sì, non so perché. Ma allora il credo, il credo che pensiamo a 1700 anni, quest'anno festeggiamo l'anno prossimo in realtà, festeggeremo 1700 anni del credo, del concilio di Nicea, no in realtà, e la professione di fede è molto lunga che riassume un po' i dogmi principali, cioè le verità di fede principali contenute della fede cristiana. Abbiamo pensato così un po' di approfondire questi singoli capoversi, i singoli versetti. Ogni qualche domenica si utilizza, se non mi sbaglio, si chiama il credo degli apostoli, no? Che è quello un pochettino più breve. Allora, è il più breve, quello risale credo all'ottavo secolo, è una sintesi del credo. Che difatti io non riesco a imparare a memoria. Sì, no, perché ci si confonde perché alcune frasi, essendo le stesse, poi uno non sa se va di qua di là. Diciamo che solitamente in Quaresima e Pasqua si usa quel credo lì, in realtà è un po' per variare, anche perché l'altro credo, va bene, è bello, però è lungo e alla fine risponde a delle domande, dei quesiti che facevano riferimento alla Chiesa del IV secolo. Faccio un esempio, generato e non creato, la persona del figlio di cui parleremo l'anno prossimo, generato e non creato, va bene, quella è la polemica diario, la differenza tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ariana, pensiamo a tutta la storia del concilio, di Nicea, oggi forse non risponde più alle domande semplici, chiedo scusa, diverse delle persone, sono questioni teologiche molto sofisticate. Lo si tiene, lo si dice proprio ogni domenica, tra l'altro è stato l'imperatore Enrico a chiedere al Papa che fosse inserito, quindi mille anni fa morì l'imperatore Sant'Enrico che chiese che fosse come dire, utilizzato in ogni domenica e festa solenne, credo. Vabbè, poi lo si usa, lo si dice, però vogliamo offrire anche la possibilità di capire un po' le cose che si dicono, altrimenti ripetiamo delle cose che, delle pappardelle che uno non... Tra l'altro, vedo, adesso figuriamoci se la ritrovo, però c'è sempre, o forse magari invece è una mia... beh no, tra l'altro si parla anche di arte, vedo, c'è uno degli... Sì, assolutamente. No, l'arte, la dimensione artistica, tra l'altro verrà il direttore dell'istituto, è un prete molto bravo, insomma, di Udine, Don Federico Grosso. La parte artistica è la traduzione, come dire, più naturale, no, della fede, no? Perché, proprio perché la fede cristiana si basa sul figlio che si rivela, sul Dio che si vede, la traduzione artistica, iconografica o letteraria, eccetera, credo sia una delle parti che non va, anzi, quello che a me dispiace è che dedichiamo soltanto un incontro a questa parte, ma insomma... Beh, poi l'anno dopo... Sì, sì, farà sì. No, mi incuriosisce questo evento, proprio su questo, e tocca a lei questa domanda, perché mi è venuta in mente adesso, nel senso che per parecchio tempo un certo tipo di cinema, molto si è ispirato a personaggi biblici, insomma, io ritengo personalmente i Dieci Comandamenti uno dei film più belli che... mi piace molto per tutta una serie di ragioni, insomma, però ce ne sono stati parecchi, soprattutto, diciamo, in un determinato periodo, poi se ne è fatti meno. Forse l'ultimo, sto parlando sempre di film, come dire, realizzati dal cinema più popolare, forse l'ultimo è La Bibbia di John Huston e lì siamo a metà degli anni 60. Molto spesso quei film ci appaiono, come posso dire, un po' superati, non voglio dire superficiali, ma comunque poco via, ecco, insomma. C'è un dibattito anche, non so se c'è ancora, se c'è stato, quindi bisognerebbe storicizzare, ma, insomma, all'interno appunto della Chiesa, su quel tipo di cinema, dove molto spesso forse il messaggio religioso era un po' annegato, come posso dire, da scenografie magniloquenti, forse anche da un modo di recitare che adesso, mi rendo conto, può sembrare eccessivo. Ma voglio dire, c'è stato, c'è ancora un dibattito attorno, anche a queste, alle eventualità, che ogni tanto poi, perché, insomma, non è un filone che non sia più frequentato. Allora, sicuramente l'arte cinematografica, a cominciare proprio dall'epoca dei fratelli Lumière, mette, diciamo, sul grande schermo la passione di Gesù come uno dei contenuti più, come dire, anche più complicati probabilmente da mettere, perché è una scena molto tragica, la passione di Gesù, la sua morte, la crucifissione, molto conosciutissimo evidentemente, che però non deve mai indulgere nella dimensione doloristica, non è il centro, nei Vangeli della Passione, non è la sofferenza di Cristo, bensì il suo atto di donazione. Allora, credo che per un regista sia una tappa d'obbligo, mi verrebbe da dire, poter pensare di affrontare quella scena. Ci sono state poi evidentemente negli anni grandissimi, tutti i grandi, credo, si siano cimentati, ecco, in questo, fino ad arrivare a Mel Gibson, ma anche successivamente. Su quello di Mel Gibson, una delle cose più belle e intelligenti di quel film, che deve essere anche visto in un certo modo, però la salita al Golgotha, seguita da distante, io credo sia una delle cose più belle che abbia mai visto, intelligenti dal punto di vista narrativo. Tantissimi punti molto interessanti, tantissimi punti anche molto critici o criticabili, allora sicuramente c'è un filone nella attenzione teologica al cinema, come a tutte le arti, quindi sicuramente ci sono molte anche università che riflettono su questo. Credo che però la cosa più, come dire, più artistica, mi vorrebbe dire, più poetica è quando i temi cristiani non vengono affrontati in maniera così diretta. La passione, la vita di Cristo, atti degli apostoli, ma non so, il pranzo di Babette piuttosto che… o anche, come dire, quei film che hanno un background cristiano o no, può essere le cronache di Narnia, ad esempio, quello è… la prima è proprio una grande narrazione teologica cristiana, quella morte e la risurrezione del leone, Aslan, mi pare. O dall'altra parte, ad esempio, Matrix, che è una grande evocazione dell'epopea, come dire, cristiana, ma non cristiana, perché non c'è la risurrezione. Credo, questo forse è la parte più interessante. Io ho visto di recente un film che si intitola Il Vangelo secondo Clarence e, devo dire la verità, l'ho preso a scatola chiusa, nel senso non sapevo che cosa andavo ad acquistare, perché supponevo che forse poteva essere un film, ma non dissacrante, ma non lo so. E, devo dire la verità, sono rimasto colpito perché mi sono trovato di fronte ad un prodotto non banale, curiosissimo, eccetera, che non riesco ancora a decifrare bene, perché interroga su parecchio, anche su spunti narrativi interessanti, ma soprattutto non banale. È un film molto particolare, purtroppo ha avuto una distribuzione molto… ormai poi non si è nemmeno più sicuri delle distribuzioni cinematografiche, per dire la verità, ma questo è un discorso che non riguarda noi. Allora, siamo già arrivati alla fine. Allora, di questo segmento, io direi, ripetiamo solo eventualmente, c'è tempo per iscriversi? C'è tempo per iscriversi, anche se le lezioni inizieranno il prossimo lunedì 23 di settembre. È lunedì 23, sì. Quindi questo è il periodo delle iscrizioni, noi siamo sempre presenti in seminario da lunedì al giovedì, dalle 17 alle 19, si può anche dare un colpo di telefono, si chiama il centralino 040-300-847, mi pare di sì. Comunque ci si può informare, si viene in seminario e ci si può iscrivere, si guarda, c'è il programma, si guarda il programma, ci si iscrive a ciò che si desidera, a tutto il corso oppure anche soltanto a dei corsi specifici. Grazie allora a Don Lorenzo Magarelli anche per aver accettato di seguirmi in territori particolari, buon lavoro e noi ci vediamo ogni tanto perché è sempre piacevole. Cambieremo argomento dopo la pubblicità. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come annunciato prima, ci occupiamo del congresso della Società Italiana di Psichiatria che è in programma a Trieste venerdì prossimo, il 13 settembre. L'argomento è Unmet Needs ed interventi precoci in salute mentale. Ne parliamo con il professor Umberto Albert che è docente di psichiatria all'Università di Trieste e poi collegato con noi da Torino con il professor Giuseppe Maina che è docente di psichiatria all'Università di Torino. Buonasera professore e grazie per essere... Buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie per essere in nostra compagnia. Allora, non ho detto e chiedo scusa, dove si tiene il convegno? Dov'è? A Torino? Sì, sì a Torino. A Trieste al Palazzo Ferdinandeo. Al Ferdinandeo, immaginavo che fosse il Ferdinandeo. Con orari professore? Con orari, allora, 8.30 registrazione, 9 apertura del convegno, ci sarà qualche saluto di autorità e poi partiamo e andiamo fino al pomeriggio, fino a metà pomeriggio. Allora, intanto devo dire la verità un po' anche per rompere il ghiaccio, eccetera, ma è un po' una sciocchezza, ma io la dico lo stesso. Tanto, professor Maina, c'è qualcosa che ha comuna, no? Trieste e Torino. Io ci sono stato di recente per una breve vacanza e devo dire la verità, ho sentito un po' aria di casa. Non so se dipende da qualcosa in particolare, ma le due città sono abbastanza simili, per dire la verità, secondo me. Ma forse sì, io conosco poco Trieste, però la conosco. Ci sono anche delle differenze, per esempio voi avete il mare, noi abbiamo un fiume. Siamo entrambe città, Trieste di sicuro Torino quasi di confine. Siamo città anche, come dire, di carattere degli abitanti per certi aspetti simile. Chiuso, riservato, sì, è vero. Comunque è una bellissima città, devo dire la verità, sono rimasto piacevolmente colpito, se devo essere sincero. Allora, c'è un'altra vicinanza, che io ho studiato e mi sono formato e ho lavorato a Torino, prima di arrivare a Trieste, quindi. Ho capito. Poi c'è anche quell'idea, no? Anche della Trieste esoterica e anche della Torino esoterica, ma quello è un altro discorso, come diceva il barman di Irma La Dolce. Allora, parliamo dell'appuntamento di venerdì prossimo, partendo esattamente proprio dal direi, che cos'è la Società Italiana di Psichiatria? La Società Italiana di Psichiatria è la società con il più elevato numero di iscritti che raccoglie quindi gli psichiatri in Italia. È una società storica che ha compiuto 150 anni quest'anno e quindi abbiamo festeggiato un bel po' di storia di questa società. È una società ovviamente che raccoglie gli psichiatri, quindi medici, chirurghi, specialisti in psichiatria, ma questo convegno che facciamo qua non è aperto solo agli psichiatri, perché gli psichiatri sono una delle figure professionali che contribuisce alla salute mentale e quindi sarà un convegno che è aperto ad altre psicologi clinici, psicologi, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri. Ci sono tutte le figure professionali che contribuiscono. Ovviamente gli psichiatri sono i medici che hanno specifiche competenze. Quando noi in genere pensiamo alla figura dello psichiatra, raramente si pensa, Professor Maina, al chirurgo, no? Nell'immaginario collettivo non si vede l'attività chirurgica dello psichiatra. Non si vede più, direi per fortuna, perché c'è stato anche un passato, ormai per fortuna molto passato, in cui esisteva anche per la psichiatria la parte chirurgica, cioè quando si praticavano le lobotomie. Adesso esistono ancora degli interventi molto diversi, raffinati, come si fanno anche in neurologia, ad esempio nel Parkinson, ma sono per lo più ancora altamente sperimentali per le malattie psichiatriche molto gravi. Ma la psichiatria è una scienza medica, comunque non chirurgica, che si avvale di strumenti farmacologici, psicoterapici e anche riabilitativi per i nostri pazienti. Allora, che cosa significa Unmet Needs? Needs significa necessità, bisogni insoddisfatti. Bisogni insoddisfatti? Bisogni insoddisfatti, che ce ne sono tanti. Quindi l'idea della tematica del convegno è di focalizzare su quello che ancora ci resta da fare, che sono i bisogni dei nostri pazienti, soprattutto focalizzando sull'età giovanile e quindi l'idea è anche di focalizzare sugli interventi che siano il più precoce possibile. Ne parleremo dopo, ma l'idea è di coinvolgere in questo convegno non solo gli psichiatri, ma anche la figura del neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza, che quindi parteciperanno poi a una tavola rotonda. La maggior parte dei nostri disturbi, sono disturbi che esordiscono in età addirittura adolescenziale, uno studio per darle un'idea ha trovato due picchi di incidenza di disturbi psichiatrici all'esordio, 15 anni e 30 anni. Quindi vuol dire che da un terzo alla metà dei pazienti che sviluppano poi un disturbo psichiatrico in età adulta lo fa prima dei 18 anni. Questa quindi la categoria dei giovani è una categoria che accede poco ai nostri servizi e quindi l'idea è di focalizzare l'attenzione su ciò che abbiamo imparato in questi ultimi anni e ciò che ancora ci manca per garantire che gli nostri interventi, interventi di tutti i generi, quindi interventi farmacologici, psicoterapici e riabilitativi, siano il più precoce possibile, il più vicine possibile all'esordio dei disturbi. Se fossimo sufficientemente abili in un futuro dovremmo riuscire anche a prevenire, quindi a selezionare, identificare i soggetti che sono a rischio e fare degli interventi specifici che quindi riescano a prevenire l'esordio e lo scoppio dei disturbi, dei sintomi. Come si eventualmente distingue, professor Maina, tra un disagio e un vero e proprio disturbo psichico? Perché soprattutto sappiamo benissimo che l'età adolescenziale che viene descritta come l'età più bella, Flaubert alla fine dell'educazione sentimentale dice che erano gli anni migliori della nostra vita, però è anche vero che per altri versi sono gli anni più difficili della nostra vita. Come si capisce, non so se ha senso come paragone, dove termina a quel disagio che potrebbe essere anche connaturato, mettiamolo così, ad una certa crescita e quando invece comincia il vero e proprio disturbo? Beh, è una domanda importante che è centrale per noi, non solo per noi, ma per tutta la medicina, perché anche in ambito medico ci si pone sempre la domanda da che punto la pressione è considerata troppo alta e ipertensione, da che punto, da che valore la glicemia è troppo alta e si va verso il diabete? Anche in psichiatria ci si pone questa domanda, diciamo che se compaiono certi sintomi molto gravi, di sicuro siamo già in un ambito di disturbo, ad esempio se compaiono delle allucinazioni, il giovane sente o vede cose che in realtà non ci sono, se compaiono anche dei deliri, cioè dei pensieri per lo più magari bizzarri, non fondati sulla realtà che portano il ragazzo al di fuori della realtà. Poi però, al di là di questi che sono sintomi molto gravi, ci sono delle alterazioni comportamentali o affettive che sono imposte in un continuum con la condizione invece normale di crisi adolescenziale e infatti la diagnosi non è così semplice e quasi mai è una diagnosi che si fa in un solo incontro, ma si fanno almeno alcuni pochi incontri di approfondimento, di osservazione nel tempo con il ragazzo o la ragazza e quando è possibile anche con i genitori, perché ci possono dare delle informazioni assolutamente rilevanti. Un altro parametro importante è il funzionamento, cioè se succede anche che il ragazzo o la ragazza comincia ad avere una perdita di rendimento scolastico rispetto a prima e una tendenza all'isolamento sociale. Ecco, qui credo sia anche centrale questo, cioè sono delle problematiche, chiamiamole così, che hanno la necessità di avere, non so se il termine è corretto, delle sentinelle, cioè eventualmente la famiglia, eventualmente la scuola, eventualmente anche gli amici che si possono avere al di fuori della scuola. Lì però come si agisce, nel senso non credo sia semplice. E un altro punto centrale, cioè come aiutare un giovane eventualmente a chiedere aiuto, a identificare che c'è un problema, a capire appunto chi può aiutarlo magari a definire se è semplice disagio o se è già un disturbo e quindi necessita di un specifico trattamento. Allora qua è ovvio che il contesto di vita della persona è molto rilevante per noi sempre, quindi le figure che ci sono vicino, che saranno quindi innanzitutto i familiari, i genitori e familiari, i fratelli e sorelle più grandi se ce ne sono, eccetera. I insegnanti sono un altro punto di forza enorme, enorme, direi più gli insegnanti che non i compagni di classe, però possono sicuramente, e poi ci sono altre figure che possono essere significative nell'adolescenza, non so, penso se un ragazzo fa sport, ci può essere l'allenatore che ha stabilito un rapporto. Quindi come dire, sono tutte persone che dovrebbero avere un tale rapporto continuativo di conoscenza, fiducia e stima della persona, che la persona si fida nel momento in cui si apre e racconta che c'è un disagio. Lì abbiamo poi un secondo punto di difficoltà che è di accedere ai nostri servizi, perché i nostri servizi di psichiatria, cioè i centri di salute mentale, hanno una splendida organizzazione, cioè sono comunque l'eredità della nostra storia, della nostra, come dire, ciò che rende la psichiatria unica e la salute mentale unica in Italia, grazie un po' alla legge Basaglia, a tutto quello che ha seguito. Però non c'è dubbio che sono dei servizi che sono stati pensati originalmente non certo per gli adolescenti e per i ragazzi. Quindi un ragazzo che si trova a dover andare in un centro di salute mentale, che è frequentato da utenti magari più anziani, da utenti che sono magari più avanti nella loro storia di malattia, beh, fa fatica. Quindi un po' abbiamo bisogno di ripensare a dei servizi che siano magari più orientati su questa fascia di età. Senta, professor Maina, in questi anni, credo, io vorrei non citare il periodo pandemico, però credo che giocoforza è carsico, quindi non se ne parla per un certo periodo, poi si è costretti quasi a far riferimento. Risulta, non so, dalle statistiche, eccetera, che questi episodi di disturbi nei confronti dei giovani sono in qualche modo aumentati durante il periodo pandemico o no? Ahimè sì, e sono aumentati durante il periodo pandemico, ma a partire anche dal periodo pandemico, ne sentiamo ancora le conseguenze anche adesso, soprattutto la fascia giovanile appunto, e i motivi li stiamo ancora cercando di capire fino in fondo, però alcune cose ci sono già chiare. Intanto il periodo pandemico ha isolato i giovani dalla scuola e dalla società, ricordiamoci le lezioni anche non in presenza. In alcune famiglie la costrizione, tra virgolette, di vivere in casa tutti insieme, magari in uno spazio piccolo, oppure laddove c'erano già conflitti familiari anche importanti, ha sicuramente peggiorato le cose. E in particolare poi c'è una popolazione che riguarda le giovanissime con disturbi del comportamento alimentare, che sono particolarmente esplosi nel periodo pandemico, perché lo stare a casa con i propri familiari, senza particolari distrazioni, ha creato dei cortocircuiti di cui ne sentiamo le conseguenze ancora adesso. Anche il tasso di suicidi è in aumento a partire dal periodo pandemico. Se posso aggiungere un altro degli elementi che sicuramente ha inciso particolarmente è la disregolazione dei ritmi di vita, di cui forse dopo si parlerà, perché è un argomento di cui si occupa molto il professor Maina. Cioè quando c'è stato il Covid, il lockdown, si sono interrotti quei ritmi che davano il senso, la scansione temporale della giornata. Per cui privi di orari, lì alcune delle consuetudini si sono rotte ed è quindi molto difficile recuperarla. Una volta formulata, mettiamola così, una diagnosi, poi è necessario intervenire subito? Sì, allora, diciamo, è necessario intervenire il più precocemente possibile, perché quanto più dura lo stato, diciamo, di sintomi attivi, tanto più difficile sarà poi riuscire a recuperare. Questo vuol dire tante cose, quindi noi la chiamiamo la durata di malattia non trattata, che è uno dei parametri, cioè quanto tempo passa tra quando è esordito il disturbo e quando finalmente ricevo un trattamento. Il trattamento può essere qualunque tipo di trattamento, non stiamo parlando solo di trattamenti farmacologici, però è fondamentale anche i riabilitativi, perché lì c'è un danno, che è un danno su molteplici livelli. Uno è sicuramente dimostrato un danno cerebrale, ma c'è un danno ancora più significativo della rete, del funzionamento, cioè pensiamo a un individuo giovane che improvvisamente, per un bel po' di tempo, ma anche anni, interrompe completamente le relazioni sociali con i propri pari. Lì c'è un danno non solo che dipende dal fatto che la rete si interrompe, ma impedisce questa interruzione della relazione di continuare nel percorso di vita, di apprendimento. Quindi tutto ciò che noi impariamo dal confronto con i pari e dall'interazione viene interrotto. E invece, non vorrei dimenticare questa domanda che mi viene anche suggerita, durante il convegno si parlerà anche del cambiamento climatico, che è in atto, è inutile nasconderlo, se gli stessi meteorologi ammettono che la situazione è straordinaria, vuol dire che lo è veramente, io appartengo a una generazione dove i meteorologi dicevano sempre no, ma è tutto nella norma. Adesso sono loro stessi a dire che il cambiamento climatico, siamo già dentro il cambiamento climatico, clima, natura e ambiente possono agire sul disturbo psichico, professor Maina? Beh, allora, questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, a Torino ce ne stiamo occupando in questi anni. Siamo, perché sì, la risposta è sì. Intanto noi siamo partiti, cosa più frequente come tipo di studi in psichiatria, dal studiare la stagionalità e i disturbi mentali. Perché si pensava che soprattutto i paesi nordici avessero la caratteristica di vedere più depressioni nei lunghi inverni. Però noi abbiamo visto, e ho anche dei colleghi francesi peraltro, che invece anche nei nostri paesi mediterranei c'è un'influenza stagionale, cioè su alcuni, non su tutti i disturbi psichiatrici, per esempio le depressioni. Le depressioni tendono a manifestarsi più in inverno, però alcune forme di agitazione, di disperazione, anche di tentativi di suicidio sono più tipici a giugno, giugno-luglio. Dopodiché abbiamo proseguito e presenterò questi dati per valutare se al di là della stagione la temperatura, si parla continuamente di una temperatura media che sta salendo, anche questa ha un qualche nesso. E purtroppo abbiamo visto che è così. Cioè, per esempio, guardando uno spaccato di dieci anni e valutando tutti i ricoveri più urgenti, più gravi e anche il numero complessivo dei ricoveri, nello stesso periodo estivo, ad esempio, cioè sempre in estate, però varia moltissimo a seconda della temperatura media giornaliera. Cioè più fa caldo, cosa che chi lavora in psichiatria sa da tempo, ma è aneddotico, cioè non c'erano grandi riferimenti di ricerche scientifiche su grandi numeri. In effetti il caldo, probabilmente anche l'umidità, ma dobbiamo finire lo studio, probabilmente anche la pressione atmosferica, ma dobbiamo concludere lo studio, sicuramente la temperatura, se aumenta troppo, porta con sé un aumento del malessere e dei quadri di depressione agitata più gravi. E anche dei suicidi, purtroppo. Come si sceglie, professor Albert, il tipo di trattamento? Una volta stabilito appunto che un intervento è necessario, come si sceglie? Allora, lì si parte, direi, dalla diagnosi, che con tutti i limiti possibili e immaginabili, perché non è un processo facile, come ha ricordato il professor Maina, non è un qualcosa che si fa immediato in un'unica singola seduta, però orienta la scelta del trattamento. Per cui, giusto per fare degli esempi macroscopici, se io ho un disturbo depressivo, utilizzerò, se scelgo i farmaci, alcune classi di farmaci che si chiamano antidepressivi. Se ho un altro disturbo, userò degli stabilizzatori del tono dell'umore che si usano per il disturbo bipolare. Questa è una prima indicazione. Anche nella scelta tra terapie farmacologiche e terapie psicologiche, la diagnosi conta, perché alcuni disturbi possono, rispondono bene anche alla terapia solo psicologica, quindi ad una psicoterapia, mentre ci sono alcune altre condizioni che richiedono un intervento farmacologico. Poi ovviamente la diagnosi è un primo pezzo, perché quando io dico che è un soggetto a un disturbo depressivo maggiore e ho, diciamo, 50 antidepressivi possibili e immaginabili sul mercato, è ovvio che io non scelgo a casaccio. Quindi lì c'è un processo che noi chiamiamo la personalizzazione dei trattamenti, che si fonda sulla caratterizzazione di quel paziente, è maschio, è femmina, è giovane, è anziano, ha delle comorbidità mediche, e sulla caratterizzazione del disturbo, che vuol dire ha una depressione ansiosa, ha una depressione agitata, ha una depressione con sintomi psicotici, cioè qual è il quadro clinico specifico all'interno della diagnosi. E poi c'è un ultimo pezzo che noi chiamiamo la stadiazione, che vuol dire se io guardo longitudinalmente la storia del paziente, in che momento siamo? Una cosa è trattare un primo episodio di malattia, per esempio, un contro è trattare una persona che ha una storia di malattia di 30 anni. Ovviamente questi sono gli estremi ed è molto diverso, e quindi i nostri trattamenti saranno scelti un po' in base alle caratteristiche di quella persona. Le faccio un'ultima domanda, professor Maina, perché vedo che siamo tra l'altro in chiusura. Oggi abbiamo avuto due argomenti veramente interessanti. Mi viene in mente questo. Ci sono delle persone che, come posso dire, comprendono di avere un determinato problema e poi in qualche modo lo mascherano? Cioè si mettono in atto delle strategie non tanto difensive quanto di negazione del problema? Sì, in alcuni casi la persona consapevolmente lo maschera, perché magari se ne imbarazza, si vergogna, non riesce a chiedere aiuto. In altri casi, invece, la persona inconsapevolmente nega, come ha detto giustamente lei, il disturbo. E magari lo attribuisce il malessere allo stomaco, alla testa, alla cefalea. Cioè lo maschera, non per niente una generazione di psichiatri prima di noi definiva depressioni mascherate quelle forme di depressione in cui la persona, più che manifestare consapevolmente tristezza, angoscia, manifestava sintomi somatici, cioè era mascherata da un problema fisico. Ho capito. C'è sempre questo, no, professor Albert, anche l'idea che sia difficile, non solamente in questi problemi, logicamente, ma anche in altri, anche meno lievi per altri versi, che sia sempre difficile chiedere aiuto, no? Sì, allora, lì intervengono tanti fattori. C'è una difficoltà delle persone che devono chiedere aiuto, quindi c'è una difficoltà che può dipendere appunto dalla non consapevolezza che quello può essere un problema di natura psichiatrica. C'è una difficoltà nel riconoscere con i propri pari, in famiglia, che quello è un disturbo. Quindi c'è anche magari la persona che dice soffro e la famiglia, chi gli sta vicino, dice non concepisco l'idea che esista il disturbo che è il giovane. Questo, ad esempio, per gli adolescenti è particolarmente rilevante. Poi c'è una difficoltà da parte di chi sta intorno a riconoscere e a differenziare, cosa che non è semplice, come abbiamo detto, il disagio versus il disturbo. Perché poi quando il disturbo è esploso è facile, mi viene da dire, ritornare indietro. Ma quando hai magari un ragazzo giovane o una ragazza giovane che incomincia a manifestare alcuni che potrebbero essere sintomi o segni di un disturbo, beh lì è difficile. Poi c'è un problema, torno a dire, di accessibilità dei servizi di stigma, che è indubbio che ancora adesso, nonostante tutto, nel 2024, la gente fa fatica. È più semplice quando il medico di medicina generale dice ti mando dal neurologo che non ti mando dallo psichiatra. Ti mando dallo psichiatra in genere fuggo, se me lo dici. Quindi ci sarà sicuramente da lavorare per favorire un po', per favorire proprio l'incontro tra persone che probabilmente o eventualmente hanno un disturbo e i servizi di salute pubblica. Allora io ringrazio il professor Giuseppe Maina che è stato collegato con noi da Torino e il professor Umberto Albert per essere stati appunto nostri ospiti. vi ricordo questo appuntamento il giorno 13 di settembre su al Palazzo Ferdinandeo con il congresso della Società Italiana di Psichiatria. Com'era? Unmet needs? E interventi precoci. Unmet needs sono i bisogni non soddisfatti. Bisogni non soddisfatti. E interventi precoci. Interventi precoci in salute mentale. Grazie davvero. Grazie mille a voi. Grazie a voi per essere stati con noi. Buon lavoro. Grazie. Grazie a voi professore. Noi ci vediamo domani come sempre alle ore 18. Grazie a tutti.